Buongiorno a tutti, bellissimo gruppo, benvenute, ecco già la prima, io ancora sono qui, sto modificando le carte, il traspetto che arrivate, vedo già che c'è una personale lì, buona, buongiorno a tutte, ciao, come state? Iniziamo insieme questa giornata di dirette su Bridge, sono felice di aprire io questa giornata con voi, ciao Lori, ciao Lorena, Buongiorno a te Alessia, buongiorno, a Roma oggi è un pochino uggiosa per me da voi il tempo, è uggioso ma il sole come dico io ce l'abbiamo dentro e quindi è una giornata comunque sempre super risplendente, c'è sempre l'unicorno qui che mi fa compagnia, Buongiorno, buongiorno Tinuccia, buongiorno Andre, Mirella, benvenute, piano piano state arrivando, Manuela, Tiziana, buongiorno, Milena, buongiorno, passeremo questa oretta insieme e prima risponderò alle persone prenotate e poi come solito a random risponderò a voi, vedo tanti cuoricini, buongiorno, buongiorno Mirella Greco, buongiorno, grazie, grazie per il sostegno che ci date sempre, Marianna, buongiorno, Valeria, wow, si è iniziata ad essere già un bel po', aspettiamo un attimo che arrivano tutte e così facciamo l'apertura, che mi dite che vi piace tanto, così come io accolgo gli angeli tra noi, anche lì è nuvoloso, ma guarda, anche qui mi fa piacere, stamattina ho cambiato musica, io adoro tanto quest'artista, è sempre con me e quindi ho pensato stamattina di accogliere gli angeli così, abbassiamo un pochino, magari mi sentite meglio, ti si sente meno, vabbè, ma io adesso l'ho abbassata apposta così mi sentite meglio, la musica era per accogliervi, aspettate a mettere le domande perché adesso io non rispondo alle vostre domande ma risponderò prima alle prenotate perché se no poi mi sfuggono, allora vedo che siamo già un po', visto che abbiamo comunque solo un'oretta a disposizione, facciamo l'apertura del campo, iniziamo insieme questa giornata e accogliamo gli angeli nei nostri cuori, buongiorno Barbara, buongiorno, aspetto abbassa ancora un pochino di più, la musica, gli angeli amano la musica, amano i suonagli e a me fa piacere accoglierli nella giusta modalità, con il giusto cerimoniale e quindi vi invito per chi vuole ad aprire il campo con me e ad accogliere gli angeli dentro di noi, nel nostro cuore, dandogli il benvenuto a questa bellissima giornata seppurugiosa. Ci mettiamo la mano sul cuore, facciamo un respiro profondo e cerchiamo di liberare i nostri pensieri, la nostra mente, da tutto ciò che ci affatica, da tutto ciò che ci appesantisce. Proviamo ad abbandonare per un po' le nostre preoccupazioni e apriamo un varco, al di sopra della nostra fontanella immaginiamo che ci sia un fiore di loto pronto a schiudersi. Adesso piano piano lo vediamo aprirsi e mentre si apre c'è una bellissima luce che viene dall'alto e che entra dentro il fiore di loto, lo attraversa, entra nel nostro capo, fino ad arrivare nel nostro cuore. Sono gli esseri di luce che arrivano e portano conforto dentro di noi, arrivano nel nostro cuore e spandono la loro energia e mano a mano sentiamo spanderla e il cuore comincia ad irradiare tutti i nostri organi, tutto il nostro corpo per portare l'amore e la compassione di cui tanto abbiamo bisogno. E accogliamo così dentro e poi fuori di noi gli angeli, gli arcangeli, tutti gli esseri di luce, i nostri maestri, le mie guide, gli animali di potere, chiediamo loro di scendere giù, di aprire questo campo, affinché possano lavorare con noi questa oretta e portare conforto attraverso la mia voce ma anche attraverso le intuizioni che vi arriveranno durante questa giornata. chiediamo agli esseri di luce di portarvi un messaggio secondo la modalità che loro ritetano più opportuna per voi attraverso la mia voce ma anche attraverso i segnali che vi si presenteranno durante la giornata. Noi li ringraziamo per essere qui con noi e chiediamo a Michele di fare una scelta di protezione affinché energie disturbanti non entrano nel nostro campo e che le risposte possano essere chiare e fluide per tutti noi. Per tutti questi motivi noi vi accogliamo, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo. Grazie, grazie, grazie. e dando il benvenuto agli angeli io do il benvenuto a voi che vi siete nel frattempo collegate siamo arrivate a un bel po' di persone fate un respiro profondo e io sono certa che nel vostro cuore già qualcosa è cambiato già è arrivato un po' di sollievo un po' di leggerezza e iniziamo questa giornata con Ciro Calce ci sei? spero di sì altrimenti poi ti risenti con calma la diretta Ciro mi chiede se gli angeli vedono anzi chiede agli angeli, mi correggo la firma di un contratto di lavoro entro il 2021 vediamo un po' se c'è la firma di questo contratto per Ciro ciao Paola benvenuta è bello supportarci tra colleghe buongiorno, buongiorno Paola lei è la mia collega siamo molto sulla stessa linea dopo ci sarà Matilde anche lei fa da Matilde un'anima carina in questo gruppo ci sono tantissime belle anime che girano per portarvi conforto per portarci conforto per farci compagnia allora vediamo un po' Ciro allora Ciro gli angeli ti dicono che questo tuo contratto io non so se tu è un progetto che devi avere devi fare insieme a un'altra persona in società con un'altra persona di controllare bene prima di firmare delle pratiche perché ci potrebbero essere dei cavilli poco adatti poco favorevoli alla tua situazione non è che la persona che ti affianco non va bene assolutamente assolutamente però c'è qualcosa che potrebbe non essere a tuo favore e quindi gli angeli ti consigliano di fare attenzione di andare avanti a piccoli passi sei protetto sei protetto da Michele però per la tua realizzazione devi ripeto fare attenzione e guardare bene quello che firmi così potrai avere poi una buona riuscita però per avere questa buona riuscita non ti affidare troppo agli altri ma bensì guarda bene i tuoi interessi guarda bene se è veramente favorevole quello che ti viene proposto favorevole per te ok Ciro spero di esserti stata d'aiuto allora Roberta De Russi vorrei sapere che piega sta prendendo la relazione con Davide vediamo un po' cara Roberta chiediamo agli angeli dell'amore vediamo un po' la relazione con Davide Roberta ci sei Roberta? spero di sì altrimenti poi te la senti indifferita allora vediamo un po' la tua relazione con Davide la tua relazione con Davide non va male cara la vedo che ci sono dei buoni sentimenti ti dicono di badare di pensare pensi troppo all'altro e meno a te stessa quindi sicuramente gli angeli ti stanno dicendo di riportare un pochino l'attenzione a te stessa questa è una cosa importante però va benissimo tra voi non ci sono non vedo che ci siano grosse difficoltà riguardo a questa relazione anzi le fatine ti dicono di proteggere questa situazione perché finalmente le tue fatiche sono si stanno alleggerendo e quindi puoi andare con leggerezza verso un cammino più fluido allora vediamo un po' Alessia Caruso Alessia Caruso abbiamo solo un'oretta quindi magari io cerco di andare un pochino più veloce così poi pure voi che siete lì in ascolto potete ricevere le vostre risposte riuscirà a far diventare il mio progetto sul web un vero e proprio lavoro vediamo cara allora Alessia Caruso oggi le carte si vede che c'è la ripresa si vede che stiamo ritornando tutti in movimento e abbiamo tutti la grande foca di riprenderci la vostra vita perché sia ieri che oggi molte sono le domande riferite alla professione al lavoro perché fino adesso c'è stata tanto introspezione abbiamo fatto pulizia dentro fuori ci siamo ritrovati abbiamo scavato adesso però dobbiamo cominciare a fare i conti con l'aspetto pratico il lavoro dovrà riprendere un pochino barcolla i soldi sono finiti e quindi ci sta che le domande che arrivino adesso siano tutte professionali perché comunque dobbiamo siamo tutti un pochino preoccupati però io dico sempre questo ve lo voglio trasmettere l'universo ci ha mandato questo periodo per darci un grande insegnamento e l'insegnamento credo che è arrivato soprattutto a chi sta in un cammino spirituale l'insegnamento è arrivato e se l'universo ci ha messo in questa situazione non è perché è cattivo così ci ha messo e così ci toglie da questa situazione e quindi una volta portata la sua lezione sicuramente ci darà la possibilità di riprenderci la nostra vita allora vediamo un po' Alessia Caruso allora te sei tanto incerta per questa situazione hai paura che non sia il lavoro giusto quello che tu stai per intraprendere gli angeli ti dicono di provarci di provarci perché sicuramente stai dando un'opportunità a un carico cambiamento a un cambiamento che tanto desideri sicuramente potresti essere trionfante potrebbe essere la fine di un ciclo e l'inizio di un altro quindi perché no perché non tentare sicuramente vedi ci sono delle carte bellissime sicuramente potrai essere vittoriosa di questo progetto che potrebbe iniziare a rilento quindi gli devi dare la giusta energia ai giusti tempi affinché si possa realizzare però la realizzazione tesoro la vedo la vedo vedo più le tue paure più le tue incertezze che bloccano un po' questo questa modalità nuova di lavorare però sì le possibilità ci sono cara allora Silvia Gianguzzo vediamo vediamo un po' se Silvia riuscirà a comprare casa vediamo gli angeli che ti dicono riguardo a questa domanda Silvia allora vediamo un po' si è bloccato un pochino lo schermo voi vedo che mi vedete però si sono bloccati i commenti ecco qua vediamo un po' ecco scusatemi allora Silvia se riuscirà a comprare casa sì cara non solo riuscirai a trovare casa ma riuscirai a trovare la casa che tanto desideri e che tanto stai aspettando da tempo finalmente questo tuo sogno si realizza e Jofiel ti sta aiutando affinché tu possa portare a compimento questo tuo grande desiderio che ti accompagna da tanto le carte ti dicono che grazie a questa casa riuscirai a trovare il tuo equilibrio e a creare la situazione ottimale che tanto desideri da tanto tempo prenditi tu giusti tempi per creare questa casa così come la desideri anche all'interno gli angeli ti dicono di non avere fretta di aspettare i tempi giusti perché finalmente il tuo sogno sarà realizzato e realizzato così come tu lo desideri allora vediamo un po' Tinuccia B se il desiderio di mia figlia si avvera vorrebbe diventare una professoressa di spagnolo vediamo un po' Tinuccia tua figlia si chiama Ida vediamo un po' se Ida riuscirà a diventare un insegnante di spagnolo vediamo un po' allora probabilmente tua figlia è troppo attaccata al risultato e gli angeli ti dicono che deve essere più leggera riguardo a questa situazione potrebbe non so se è tra i suoi progetti però la vedo andare fuori probabilmente potrebbe un'indicazione sarebbe di andare a lavorare o ad apprendere meglio la lingua fuori affinché possa diventare padrona di appunto della lingua per poi poterla esprimere al meglio se lei andrà fuori a formarsi o a lavorare sicuramente ci sarà più possibilità per lei ecco sono gli studi lei andrà fuori ma sicuramente è tra i suoi progetti ecco vedo la partenza andare a perfezionare la lingua fuori questo per lei sarà una grandissima opportunità e la vedo sicuramente troneggiare e quindi realizzare questo suo progetto lei ha una grande passione dentro che sicuramente riuscirà a manifestare quindi si cara riuscirà a diventare un'insegnante di spagnolo ma si dovrà andare a formare o perlomeno a specializzare direttamente in Spagna o nei paesi spagnoli comunque farla diventare più una lingua più sua allora vediamo un po' Elena Bramvilla mio fratello è per mio fratello deve avere la liquidazione ma è bloccata da quasi due anni e non arriva vediamo un po' tuo fratello si chiama Davide vediamo un po' se si sblocca la pratica della liquidazione di Davide che è bloccata ok vediamo un po' spero che ci siete ragazze perché non vi vedo non vedo scorrere i messaggi spero che riusciate a sentire le risposte altrimenti vabbè poi le vedete indifferita però magari un feedback oggi ho la tastiera dei messaggi che spesso si blocca quindi non non riesco a vedere i vostri messaggi allora vediamo un po' se Davide se per Davide riuscirà a sbloccarsi questo progetto o questa pratica è già avviata avviata da tempo e si sta per realizzare sicuramente la situazione da qui a non molto tempo si sbloccherà probabilmente dovrà come dare una 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 smossa sollecitare qualcosa andare a dare andare a fare un piccolo sollecito perché è come se fosse vicino lo sblocco ma c'è qualcosa che deve essere come se deve essere invogliata eccole in arrivo la pratica e presto arriveranno buone notizie però si deve attivare per per sollecitare la pratica non so se sta in mano a un avvocato se sta in mano comunque a un sindacato deve comunque spingere perché la pratica è praticamente arrivata è come se fosse ferma su una scrivania per essere presa in mano e fatta ed avviare la realizzazione ecco io vedo tuo fratello trionfante con con la riuscita di questa situazione quindi sì a breve si dovrebbe sbloccare però deve si deve attivare in qualche modo quindi dirgli di di andare a sollecitare attraverso il padronato chi gli segue la pratica allora Silvia Nobile ah tesoro sì ho perso ieri la mia gattina di nuova vita chiedo agli angeli conforto per superare questo momento immagino io sono legatissima agli animali ce l'ho io una gattina anche io ho una gattina cucciola che ho un cane quindi mi rendo conto che quando i nostri amici ci lasciano lasciano un grande vuoto io ti posso dire che affidiamo a Israele questo questo tuo dolore affinché lo possa trasformare Israele è l'arcangelo che fa da ponte che accompagna le anime ma che ci porta anche tanto conforto nel cuore quando avvengono questi grandi distacchi quindi chiediamo a Israele di portarti il conforto di cui ha bisogno affinché tu possa riportare la compassione e aiutare nella luce la tua la tua gattina che non mi ricordo come si chiama vita un nome un nome molto molto significativo affidiamo ad Ariel anche Ariel è la protrettrice degli animali e quindi diciamo Ariel di continuare a sostenerla in questo bellissimo ponte che lei sta attraversando gli animali sono delle anime pure e quindi per loro il cammino è più semplice e questo arcobaleno le accompagna nella luce vediamo gli angeli adesso oltre ad Asraele che gli abbiamo chiesto di accompagnare di aiutarti a metabolizzare questo dolore oggi accendi una candela affinché accompagni nella luce la tua gattina luce è vita e affinché Asraele ti porti tutto il sostegno di cui hai bisogno la tua anima la tua anima desidera servire con gioia gli angeli ti dicono renditi utile mettiti nel flusso e aiuta magari qualche altro animaletto che ha bisogno fa che il tuo obiettivo di restare nel flusso e dare e ricevere sia continuo quindi puoi sicuramente aiutare le anime degli animali ma soprattutto puoi aiutare Ariel ti dice puoi aiutare gli animali in questa dimensione e probabilmente te già lo fai e continua a a diffondere questo amore che hai nei confronti degli animali perché loro te ne sono veramente tanto grati grazie allora vediamo un po' Claudia Elisabetta Nicolini devo lasciare andare questa persona o abbiamo ancora dei nodi da sciogliere vediamo un po' che cosa ci dicono gli angeli Claudia Elisabetta la Tra di voi c'è un legame molto profondo che proviene da un lontano e quindi è come se ci fosse un continuo di remolla Perché state risolvendo tutto quello che vi portate appunto dalle vite precedenti e così come tu mi scrivi sei consapevole di questo Io credo che ancora c'è da lottare un po' perché c'è un andare, sarei tu a decidere perché è come se questa situazione non è la prima volta che accade E ci sono delle crisi tra di voi e poi c'è di nuovo la riconciliazione, poi tutto sembra ritornare a posto e poi di nuovo c'è una crisi Sarai tu a decidere se voler continuare questa situazione così oppure ad un certo punto troncare e guardare oltre Hai un grande compito in questa vita, risolvere appunto questo amore conflittuale con questa persona Perché purtroppo non è un rapporto idilliaco al 100%, ci sono dei grossi alti e bassi tra di voi Momenti in cui andate a mille e momenti in cui andate a mille esattamente dall'altro lato E quindi gli angeli ti dicono che sarai solamente te a decidere come stanno veramente le cose dentro di te Se vuoi portare avanti questa situazione sappi che però questa situazione è così Non si trasformerà, ci saranno sempre dei grandi alti e dei grandi down tra di voi Quindi la possibilità di una riconciliazione che tutto riparta ci può essere Però poi ti si potrebbe ripresentare dopo un po' di tempo la stessa identica dinamica Quindi decidi te Quello che è più giusto per te e quello che veramente vuoi E quello che la tua anima, il tuo cuore desidera cara Allora Lorena avanzato Come sbloccare la mia situazione con Bruno Vediamo un po' Lorena Lorenza scusami avevo letto male Lorenza avanzato La tua situazione con Bruno Vediamo un po' se si sblocca Gli angeli ti dicono di guardare oltre Che sicuramente c'è qualcosa di bello in arrivo per te Se tu riesci a superare questo momento Allora Allora Ecco adesso è tutto molto più chiaro Sicuramente in questo momento tra di voi c'è un blocco Un grosso blocco Se tu riesci a Se voi riuscite a sbloccare questa situazione Magari parlandone Magari Essendo disponibili l'uno con l'altro Allora c'è la possibilità che questa storia riprenda E riprenda la grande Perché tra voi c'è una bellissima connessione Una bellissima armonia Anche tanta alchimia E la relazione potrebbe andare veramente bene Magari ne potete parlare attraverso uno spostamento Attraverso un viaggio Questo vi potrà riportare l'armonia Che tanto desiderate Però al momento me la dà bloccata la situazione È come se uno dei due Dovesse prendere Una L'iniziativa E cercare appunto di Sbloccare questa situazione Dato che ti è arrivato questo messaggio Perché non farsi coraggio E provare appunto a sbloccarla Perché è come se Gli angeli ti stanno dicendo È arrivato il momento di fare qualcosa Perché I tempi sono maturi Sono pronti E Solo che vi dovete attivare Dovete fare Un aiutino Ecco Vi dovete dare un aiutino Allora Giuseppina Ruggero Se riesce a entrare Nell'ambito lavorativo scolastico Vediamo un po' Ciao Francesca Ciao Annalisa Un abbraccio Vediamo un po' Se Giuseppina Ruggero Riesce ad entrare Nell'ambiente scolastico Allora Gli angeli ti dicono Che non devi avere rimpianti Devi accettare quello che è accaduto in precedenza Sicuramente ci sono stati dei dispiaceri Riguardo a questa situazione Però Doveva accadere Doveva accadere Perché poi Ti davano Ti Ti Scusate ma oggi non riesco a A esprimermi Ci sono tante Io quando sto così È perché c'ho tante forze angeliche intorno a me E quindi ho difficoltà A A parlare Questo mi fa molto piacere Perché so di non essere sola Anche perché in questo momento sto sentendo Un profumo di menta incredibile E quindi vuol dire che questo messaggio sta arrivando da Chissà Qualcuno che te Conosci Vedi un po' se tra i tuoi cari C'è qualcuno che adorava la menta Il profumo di menta Perché magari ti sta arrivando un messaggio proprio da lì E allora Ti dico che tutto quello che è accaduto Appunto ti stavo dicendo Doveva accadere Perché dovevi assaporare meglio Quello che poi ti sarebbe arrivato Ti sta per essere presentata Una nuova sfida E hai tutto quello che ti serve Per poter superare Non so se devi fare un esame Se devi fare Comunque per entrare in questo ambiente Devi comunque fare una prova Vedrai che questa prova Sicuramente sarà positiva per te E Però riguarda Attentamente le pratiche Che tu hai presentato Perché sicuramente C'è qualcosa da aggiustare C'è qualcosa da sistemare Giuseppina Questo è un messaggio molto importante Che ti è arrivato Perché adesso il profumo di menta Che ho sentito anche in bocca È svanito Quindi fammi sapere Se c'è qualcuno tra i tuoi cari Che amava particolarmente la menta Perché questo messaggio Credo che ti sia arrivato Da questa persona Anche perché ho esitato nel parlare Avevo difficoltà di esprimermi E quindi è un ulteriore segnale per me Comunque stai tranquilla Riguarda bene tutta la pratica Riguarda bene tutto quanto E se devi superare un esame Sappi che Andrà bene Allora Adesso Ritorniamo un attimo a noi Prima di cominciare A leggere tutti i messaggi Che mi state scrivendo Come faccio di solito Come faccio di solito Vi chiedo Prima abbiamo invocato la luce L'abbiamo portata nei nostri cuori Abbiamo invocato le energie angeliche Adesso vi chiedo di appunto Portare attenzione al vostro cuore E di lanciare un messaggio Una domanda Una domanda che vi sta tanto a cuore Che volete che gli angeli Vi portino risposta Una domanda semplice Una domanda proprio ordinaria Sentita veramente con il cuore E non con la testa Perché adesso Sta per arrivare la risposta A una o più persone di voi Sentitela proprio dentro di voi Sentite il battito del vostro cuore Fate un respiro profondo E lanciate Questo messaggio Questo messaggio che vi sta tanto a cuore Ed ecco in arrivo la risposta Davanti a te C'è un futuro luminoso Nulla ti è stato regalato Sarai il frutto di tanto e tanto lavoro Collabora con le persone Che condividono i tuoi sogni Ci sono dei progressi importanti Riguardo alla tua professione Entro l'inverno Ci sarà la realizzazione di questo grande sogno Chiedi conforto agli angeli Con amore E vedrai che questa situazione Si realizzerà Nel più breve tempo possibile E ti renderà più forte E più Amorevole Riguardo Alla tua realizzazione professionale Tutta la testezza che ti porti dietro Da tanto tempo Vedrai che svanirà E il freddo inverno Riuscirà a congelare Prima a congelare E affinché tu possa superare Il passato E poi di nuovo Appena sarà possibile A sciogliere tutto E farti godere dei frutti Di cui ti stai occupando adesso Bellissimo messaggio Un po' articolato Però c'è sicuramente un progetto Un progetto importante Che si sta realizzando A qualcuna di voi Si realizzerà entro l'inverno Per poi cominciare a raccogliere i frutti A primavera Quando i ghiacci si scioglieranno Quindi Andiamo un po' adesso A vedere un po' le vostre prenotazioni Mirella Greco Buongiorno Allora Vediamo un po' Francesca Francesca Vorrei sapere dagli angeli Se il cammino spirituale Che ho intrapreso È quello giusto E se mi porterà Allo sviluppo dei miei doni Vediamo un po' Le fatine Che cosa ti mandano a dire Stamattina Se il cammino spirituale Che hai intrapreso Porterai i suoi frutti Ti vengono offerte Delle grandi opportunità In questo periodo Però è come se sei focalizzata Su obiettivi diversi È come se sei un po' Distratta Riguardo ai messaggi Che ti stanno arrivando Le fatine ti invitano A guardare meglio I messaggi che ti vengono inviati Direttamente dall'Arcangelo Michele Perché stai lavorando tanto E lui sta proteggendo Tutta la tua strada E il tuo cammino Che stai intraprendendo Intraprendendo La situazione Vedi le fate Sono uscite anche un'altra volta Fatti di guidare Sì dagli angeli Ma anche dalle fate Le fate sono in questa dimensione Sono le intuizioni veloci Che ti arrivano E vai in natura Fai delle grandi Delle belle passeggiate Stai vicino all'acqua Perché lì ti verranno Ti stanno inviando Le giuste intuizioni Per poter poi Mettere in pratica Tutti i tuoi grandi sogni E desideri Che hai intenzione Appunto Di mettere in pratica E di poter realizzare Bellissimo messaggio Francesca Quindi io ti direi Di regarti Appunto Adesso finalmente Possiamo uscire Nei boschi Mi viene da pensare A un corso d'acqua E collegarti Con gli esseri della natura Che ti aiuteranno Sicuramente A capire Quali sono Quale dono Dare la priorità Perché sei sul cammino giusto Allora Il mio angelo Ha un messaggio per me La Sara Vediamo un po' La Sara Che cosa ti mandano dire Gli angeli I tuoi angeli Ti stanno dicendo Che vogliono aiutarti Si sono attivati Affinché Il tuo sogno Si possa realizzare Però hanno bisogno Che tu Gli esprima Chiaramente Qual è la priorità Tra i tuoi bisogni Loro vogliono intervenire Ti vogliono aiutare Affinché tu possa Iniziare A raccogliere E a realizzare I tuoi sogni Ma Vogliono che metti ordine E che Ne scegli Uno In particolare E lanci la richiesta Direttamente a loro Perché loro Saranno ben contenti Di esaudire Il tuo desiderio Allora Mirella Greco La nostra moderatrice Toc toc C'è un messaggio per te Perché io Ci tengo molto Alle nostre moderatrici Che sono sempre attente Carine Che dietro le quinte Ci supportano Prendono le vostre Prenotazioni Ascoltano le vostre lamentele Quando non riuscite A entrare in diretta Fanno veramente Un grande lavoro Queste ragazze Che sono dietro le quinte In silenzio E non chiedono mai niente E quindi a me piace Fare Quello che posso E quindi perché non prendere Un bellissimo messaggio Che ti sta arrivando Dagli esseri di luce Quindi Mirella Greco Questo messaggio è per te Gli angeli stanno illuminando La tua strada Se sei particolarmente tesa In questo periodo Chiedi aiuto Agli angeli Perché ce n'è uno in particolare Che sta illuminando La tua strada E vuole che La risoluzione A queste tue tensioni Possa essere risolta L'angelo ti chiede Ponimi una domanda Come posso essere Più utile Sul tuo cammino Cosa posso fare per te Vedrai che io ti invierò I giusti messaggi Affinché tu possa Cambiare pensiero E far arrivare a te Tramite la legge di attrazione I tuoi bisogni E vedrai Che le tue forme pensiero All'improvviso Muteranno Bellissimo messaggio Mirella Ciao Gabriella Allora Vediamo un po' La Sara ha già risposto Allora Questi sono tutti I ringraziamenti Si è buttata la sostiera Io ho sia il computer Che il telefonino Acceso Proprio per Aiutarvi Nelle risposte Non mi fa vedere Scusate Vediamo un po' Stefania Nakama Biscolastici C'è un messaggio Per me dagli angeli Vediamo un po' Stefania Che cosa ti arriva Che cosa ti arriva Vediamo un po' Un messaggio per te Stefania Gli angeli Ti stanno dicendo Che è arrivato il momento Di connetterti Con la madre terra E lì Potrai trovare Tutto il nutrimento E il sostegno Di cui hai bisogno Fatti cullare Dalle sue braccia Ritrova Ritrova la tua Vera essenza Attraverso Appunto la terra Se hai la possibilità Di fare giardinaggio Di andare A fare una passeggiata Per i boschi Sappi che Tutto il tuo sistema Energetico Ne potrebbe giovare Addirittura Il tuo settimo chakra Si potrebbe Connettere Direttamente Con la fonte Io non so Se tu sei abituata Ad andare in natura Se ti piace Andare in natura Però quando tu vai In contatto Con la terra Quindi con il sotto Automaticamente Entri in contatto Anche con il sopra Quindi tutto torna In equilibrio E tutto scorre In maniera molto fluida Io direi Che è la La condizione ottimale Io sono una master reiki E faccio Conduco Seminari di crescita personale E lo scopo Appunto E' quello di avere La giusta connessione Tra i mondi Tra Il piano di sopra Dove ci sono Che a me piace così chiamarlo Il piano di sopra Dove ci sono i maestri Dove c'è la luce Dove ci sono le guide E il piano di sotto Dove c'è la madre terra E quindi Il grande nutrimento Il grande sostegno Di cui abbiamo bisogno Per intraprendere Un cammino spirituale Noi non siamo altro Che Il mondo di mezzo Dove Appunto Queste due forze Si incontrano E Quello che mi stanno Dicendo Gli angeli Appunto Che se tu vai in natura E trovi questa forte Connessione Con madre terra E quindi Un ottimo Rattivamento Automaticamente Riesci a trovare Per una dote tua Personale Anche un collegamento Con il divino Quindi Questo messaggio È veramente Veramente Bello Allora Vediamo un po' Ioana Mileto La tua situazione Di coppia Se non sbaglio Ioana L'abbiamo già vista Questa situazione Io vi consiglio Di non fare sempre Le stesse domande Agli angeli Diamogli il tempo Loro vengono Si mettono Al nostro servizio Ci danno Tanto Veramente tanto Perché Io amo celebrarli Amo portarli Tra di noi Amo La loro presenza Però cerchiamo Di fargli domande Non fargli sempre La stessa domanda Perché creiamo Sempre solo Confusione Invochiamo gli angeli E facciamo le domande Agli angeli Solo quando Veramente Abbiamo bisogno Di un conforto E nel momento In cui ce l'hanno Dato Diamogli la possibilità Di far realizzare Quello che ci hanno detto Attiviamoci Non stiamo lì Solo a pensare Al risultato Questo per carità Ioana Non è che vuole essere Una ripresa Nei tuoi confronti Però mi sono agganciata Perché io vedo Che ci sono tante persone Che continuamente Fanno la stessa domanda A me O anche ai miei colleghi Non La domanda La risposta Non cambia Si crea solo ed esclusivamente Confusione Quindi poi magari Non arriva neanche La risposta giusta Perché Non va bene Secondo me Non è carino Ma non nei miei confronti Nei confronti Degli esseri di luce Perdonatemi Ma ci tenevo A dire questa cosa Perché Diamo il tempo Che tutto si realizzi E soprattutto Attiviamo il nostro cuore Affinché tutto si realizzi Quindi Vediamo un po' La tua situazione Di coppia Io credo che tu sei sposata Che c'hai già una situazione O perlomeno stai in fase di realizzazione Per quanto riguarda la tua Altro messaggio generale Ah ok 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 Perché mi ricordavo di averti Mi ricordavo di averti risposto Quindi Vabbè Questo comunque era un discorso Che valeva Valeva un po' in generale Perché vedo Insomma Quello che ho detto Allora Io non so se tu sei già in coppia Se sei già in coppia Gli angeli ti dicono Di stare tranquilla Perché la relazione Che Che hai È buona E si realizza sempre di più Se invece Perché qui non me lo Mi fa leggere Il messaggio a metà Vediamo un po' Se me lo Se non sei in coppia Sappi che sta arrivando Una bellissima persona Nella tua vita Con la quale potrai costruire E costruire qualcosa Di importante E Quindi La situazione sentimentale Va benissimo Non bene Va benissimo Quindi O C'è già una situazione E quindi Ci sarà presto La ripresa E Andrà sempre meglio Oppure Se stai aspettando Un nuovo ingresso A breve Qualcosa di bello Sta per arrivare Spero di esserti Stato d'aiuto Allora Vediamo un po' Valentina Gaetano C'è un messaggio per me Per quanto riguarda l'amore Vediamo un po' Le fatine Oggi ho preso anche Il mazzo delle fatine Perché loro sono Molto più veloci Sono molto più carine Hanno delle risposte Più Più rapide E quindi Vediamo un po' Per quanto riguarda L'amore Valentina Che cosa ti dicono Le fatine Le fatine ti dicono Devi essere più allegra Devi portare Allegria nella tua vita Ti devi distrarre Hai la possibilità Di fare dei grandi incontri Dei begli incontri Però Non focalizzarti troppo Sul lavoro E prenditi più spazio Per te Hai Hai un sacco di progetti Intraprendi questa strada Comincia a svolazzare Per questa strada Perché presto Avrai Basta rimandare Presto Avrai La possibilità Di realizzare Questo grande sogno Che è appunto Un equilibrio Anche in amore Allora Vediamo un po' Loretta Bri Darolli Vediamo un po' Oppure per te Un messaggio Sull'amore Vediamo un po' Le fatine Che cosa ti dicono Loretta Bri Darolli Vediamo un po' Cosa ti dicono Se volete approfondire Mi potete scrivere Sul messaggio Ad un prezzo Accessibile a tutti Con un'oretta Facciamo un consulto Più approfondito E mi metto A vostra disposizione Al servizio Degli angeli Affinché poi Potete approfondire Con le domande Come Come meglio credete Con una condizione Più diretta Allora Vediamo un po' Loretta Un messaggio Sull'amore Per te Gli angeli Ti dicono Che ti devi occupare Della tua situazione Anzi le fatine Della tua situazione Sentimentale Ti dicono Basta rimandare Devi prendere Delle decisioni Importanti E Dopo queste decisioni Sicuramente La tua vita Riprenderà Un colore Perché le fatine Ti stanno Mandando Tanta energia positiva Un'energia Di tutta la forza Di cui Hai bisogno Perché in questo momento Forse sei un po' Troppo confusa Riguardo All'amore È il momento Di agire Dicono le fatine Non devi avere paura E devi inseguire Con gioia Tutti i tuoi sogni E tutti i tuoi piani Ci sono Delle bellissime Possibilità Per te Guarda che fascio Di luce Ti manda Questa fatina Che arcobaleno Ti manda Se tu superi Tutte le tue paure E Gli ostacoli Di cui ti devi Prendere cura In questo momento Guarda quanto è bella Questa fatina Che ti farà Realizzare Tutto quello Che desideri Arriverà Nella tua vita Veramente Un momento Felice Un momento Ci sono tante farfalline Tante novità Intorno a te Ed avverrà Veramente La magia E tante cose Meravigliose Come tu le desideri Oppla Il caduto Lo ditorno Allora Vediamo un po' C'è un messaggio Per me Barbara D'Asio Ciao Barbara Vediamo un po' Che cosa ti mandano a dire Gli angeli E' caduto Vediamo un po' Guarda che bellissima carta Che è uscita Cubito Allora Sicuramente qualcosa di bello sta per accadere nella tua vita C'è una notizia Una Una bella notizia in arrivo per te Tutto questo viene E' scatenato Da tutto l'impegno E da tutte le richieste Che tu hai fatto agli angeli Con il cuore aperto Con il cuore Compassionevole Gli angeli ti stanno inviando Tutto l'amore Di cui hai bisogno Perché affinché tu possa celebrare Tutti Gli aspetti della tua vita Addirittura Quindi Ti dicono Accogli quello che sta per Per arrivare nella tua vita Tutto questo Non ti viene regalato Ma bensì E' stata la tua decisione Ad aprirti Alle forze angeliche Quindi Gli angeli ti dicono Accogli Accogli quello che ti arriva Sii pronta a ricevere Perché qualcosa di bello sta per arrivare Wow Ti ho detto io Posso? Giusepina Vorrei sapere cosa dicono gli angeli A mio figlio Andrea Grazie Riguardo a cosa tesoro Io gli prendo un messaggio Perché non mi chiedi Riguardo a cosa Quindi vediamo un po' Un messaggio degli angeli Per tuo figlio Andrea Giusepina Perdonatemi Allora vediamo un po' Un messaggio da parte degli angeli Che cosa dicono gli angeli Che cosa dicono gli angeli a tuo figlio Andrea È arrivato il momento di lasciare andare delle situazioni che non gli appartengono più È solo chiudendo le situazioni che in questo momento lui ritiene poco adatte e poco favorevoli Che daranno vita a due nuove situazioni che potrebbero entrare nella sua vita Gli angeli gli stanno dicendo che il sole sorge e tramonta ogni giorno E lo stesso accade nella vita C'è sempre qualcosa che finisce per poi dare vita a qualcosa di nuovo che inizia Ammira la bellezza che in ogni tramonto, in ogni fine c'è Perché sappi che domani ci sarà sempre il sole che sorge e sarà sempre un sole più luminoso Quindi se sta chiudendo qualcosa Se sta comunque cercando di ripartire sotto con un nuovo progetto Con qualcosa sappi che è guidato dagli angeli e che tutto era scritto Allora vediamo un po' Questi sono i ringraziamenti Mara De Rodda Mara De Rodda Ciao Mara Oggi vi trovo tutte qui C'è un messaggio per me dagli angeli Vediamo un po' Mara Che cosa ti arriva dagli angeli Questo è l'ultimo perché poi diamo il posto Dopo di me c'è un'altra diretta Saluto Matilde che sta per connettersi E vediamo un po' Mara De Rodda Il messaggio per te da parte degli angeli Sta arrivando tanta abbondanza nella tua vita Accoglila, apriti, apri le mani Sii pronta a ricevere a quello che sta arrivando Se stai avendo dei problemi economici Sappi che gli angeli si stanno attivando Affinché tu possa risolvere queste tue preoccupazioni Loro ti stanno guidando per far arrivare a te L'abbondanza che tanto stai aspettando Ma non solo sotto l'aspetto economico Ma abbondanza sotto tutte le tue forme Un bellissimo periodo sta arrivando a te E gli angeli che lo stanno dicendo Già da un po' ti stanno mandando dei segnali Loro ti chiedono di ascoltare Di fare attenzione a quanto ti arriva Perché il tuo intuito già sa e già riceve I messaggi di cui hai bisogno Prepariamoci a lasciare andare gli esseri di luce Se vi va di fare con me questa chiusura Questo momento magico Per lasciare andare gli angeli Per ringraziarli Ci mettiamo una mano sul cuore Facciamo un respiro profondo E chiediamo agli angeli Agli arcangeli A tutti gli esseri di luce Di chiudere questo campo Noi vi congediamo Vi ringraziamo Per tutte le risposte che ci avete mandato Per tutti i messaggi che ci avete inviato E che continuerete ad inviarci Se noi lasceremo uno spiraglio aperto Per la vostra luce Se staremo meno nell'aspettativa E più nell'ascolto Gli angeli oggi durante tutta la giornata Continueranno a mandarci dei segni Li ringraziamo Li congediamo E chiediamo a Michele E di recidere questo cerchio di protezione Che ha fatto intorno a noi Ma di continuare a sostenerci E a guidarci Ogni qualvolta si presenta una difficoltà Gli chiediamo di alleggerire E di renderla più fluida E di far vedere E di far vedere la difficoltà in maniera più lucida Per tutti questi motivi Noi vi ringraziamo di essere stati con noi Vi congediamo E vi diamo appuntamento alla prossima volta Grazie 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 Facciamo un respiro profondo E lasciamo andare i nostri amici angeli Io vi ringrazio per essere stata con me Ci diamo appuntamento a sabato Ci sarà un post dove appunto vi potrete prenotare Per la diretta O se volete Potete scrivermi su Messenger Un messaggio privato Per un consulto privato Dura circa un'ora E il prezzo è abbastanza accessibile a tutti Vi ringrazio Vi auguro buona giornata E saluto Matilde Che c'è dopo di me Grazie Arrivederci a tutti